Contributo alla statistica. Su 100 persone che ne sanno sempre più degli altri, 52. Insicuri a ogni passo, quasi tutti gli altri. Pronti ad aiutare purché la cosa non duri molto, ben 49. Buoni sempre, perché non sanno fare altrimenti, 4. Beh, forse 5. Propensi ad ammirare senza invidia, 18. Viventi, con la continua paura di qualcuno o qualcosa, 77. Dotati per la felicità, al massimo poco più di 20. Innocui singolarmente, che imbarbariscolo nella folla, di sicuro più della metà. Crudeli, se costretti dalle circostanze, è meglio non saperlo, neppure approssimativamente. Quelli col senno di poi, non molto di più di quelli col senno di prima. Che dalla vita prendono solo cose, 40. Anche se vorrei sbagliarmi. Ripiegati, dolenti e senza torcia nel buio, 83. Primo poi. Degni di compassione, 99. Mortali, 100 su 100. Numero al momento invariato.